Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Lasciamoci rinnovare della misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù. Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di misericordia per tutti noi. Non lasciate rubare la speranza, quella che ci dà Gesù. Non siate mai uomini e donne tristi. Quando noi andiamo, Lui ci aspetta, Lui è prima. È buono andare con Gesù. Non si è cristiani a tempo, si è cristiano in ogni momento. Aiutarci l'uno all'altro. Questo è lo che Gesù ci insegna. Aiutandoci ci faremo del bene. Chi si insegna. Grazie a tutti.